E conosco Mirko quello che ha provato e quello che ha fatto per Perla e io quello che ho fatto per te Perla non l'ho fatto mai per nessuna ma se l'ho fatto è perché veramente pensavo fossi la donna non una donna che è diverso perché non avrei mai fatto quelle scelte Pensavi? Pensavi? Ho detto in quei momenti Lascia stare che poi uno nella vita ci sono cose Lasciamo stare che uno c'è la sofferenza ci sono cose che tu pensi di non passare perché le penso pure io la paura a dire sì vabbè secondo me è meglio di no sì vabbè secondo me è ok ma pensavi? Io non penso che tu pensavi Io non penso che tu pensavi io penso che tu pensi che non è che pensavi o ancora di più lo pensi forse anche più di prima però ci sono delle cose di mezzo io penso che tante volte sono d'accordo che vanno oltre qualsiasi cosa vanno oltre all'amore oltre al sentimento perché è così la dongia io la penso anche io così